L'obiettivo di oggi è completare, almeno dal punto di vista strutturale, il layout della schermata di accesso, e vedrete come sarà chiaro che pagherà il lavoro di approfondimento che abbiamo fatto sulla struttura delle cartelle, il modo in cui Android gestisce la grafica, layout, eccetera. Buona visione. Aggiungiamo le caselle di testo per l'inserimento dello username alla password e le relative etichette, senza dimenticarci che in questo momento è attivo il linear layout con orientamento verticale. Cominciamo con l'etichetta dello username, usiamo un test view dimensioni piccole, trasciniamo e incaselliamolo nel linear layout. Eccolo qui. Sappiamo già che dobbiamo resistere, è meglio, o quantomeno abituiamoci, alla tentazione di modificare direttamente nel sorgente la descrizione, il testo di questa etichetta, e invece andremo a definire, io in realtà l'ho già fatto, una risorsa stringa esterna che associeremo poi a questo campo di testo. Avete due possibilità per aggiungere la risorsa stringa e poi di agganciarla come valore per questo test view. O nella sezione test view, del test view, in corrispondenza della proprietà text, non cambiare quindi qui, ma fare clic sui tre puntini di sospensione per aprire questo pannellino. In elenco vedete le risorse già disponibili, io ho già preparato questa etichetta user e etichetta password. Faccio però finta di non averle definite, comando new string, do un identificatore, prova etichetta, valore etichetta. Notate come qua si abbia la conferma di quale sia il file XML nella quale verrà definita la risorsa. Values, risorse, values, strings, XML. E un po' nell'ottica di supportare diversi layout dispositivi, ci sia la possibilità di aggiungere questa stringa non soltanto qui, ma di aggiungerla anche in tutti i file dello stesso tipo, ma nelle cartelle che corrispondono ai diversi layout e configurazioni. Cercando questo controllo. Possiamo anche avere un preview. File originale Sulla sinistra e qua dopo la modifica, cioè con l'inserimento del nuovo tag di tipo stringa. Confermo E abbiamo aggiunto la risorsa che ora potrei confermare per associarla a questo test view. L'altra possibilità per aggiungere la risorsa stringa è quella di andare ad aprire direttamente il file XML con un suo editor. Con un doppio clic qui, siamo nella cartella risorse, values, strings, XML, doppio clic, si apre questo editor specializzato. Quello sulla sinistra è ovviamente l'elenco delle stringhe già definite. Potremmo andare a modificare il nome o il valore, ma noi ne aggiungiamo una o facciamo fin tra aggiungerne una. Come tipo lasciamo string. E qui di nuovo il nome e il valore come prima. Direi che è inutile però procedere a nulla l'operazione. E vado poi a scegliere per il test view la risorsa etichetta user. Il valore è il nome utente. Vorrei adesso però un po' distanziare, separare il titolo dall'etichetta, sono un po' appiccicate le cose. Vado allora a selezionare questo test view e nei suoi layout parameter vorrei andare a specificare un valore per il margine superiore. top. Però non lo voglio fare in modo fisso, di nuovo. Voglio introdurre una risorsa, questa volta, che specifica una dimensione. Senza ripetere tutto, perché si procede proprio come per le risorse di tipo stringa. Abbiamo il dimens.xml a cui ho aggiunto questo separa. Il valore in dp. Confesso che il dubbio, se sia una cosa furba, magari specificarlo con in SP in modo che la distanza rimanga coerente con la dimensione del testo, mi è venuto. Magari se qualcuno è un pochino più smagato e che si è già un po' spaccato le ossa su questi aspetti ci dà una dritta con un post ben piazzato, grazie. Chiudo. e quindi come top vado ad accedere a questo separa. D'accordo. Poi andiamoci a prendere una casella di testo attiva, cioè che permette l'inserimento. ma sì, questo plain test va benone. Avete tante possibilità comunque. Poi sfrutteremo ovviamente questa per la password. Guardate questo piccolo segnalino. Ci sta suggerendo un miglioramento. Guarda il campo test field. non specifica un tipo di input e neppure un suggerimento. Hint. È facile provvedere. Hint è ancora una proprietà stringa come il testo. Ho aggiunto la risorsa hint user. E questo è il risultato. Però a questo punto è un po' troppo piccolo questo nome utente per cui vado nella sua proprietà appearance, text appearance. Proviamo da small. mettere medium meglio mentre in text style possiamo scegliere grassetto, bold. E adesso da soli provate ad inserire l'etichetta definendo magari le risorse esterne e la casella di testo per inserire la password. Attenzione, conviene scegliere come tipologia questa password. Personalmente provo col copia e incolla. clic, poi premo il tasto maiuscolo, shift, clic per selezionarle insieme. Comandando copia e incolla col menu ho visto che poi c'è il rischio facilmente di incasinare un po' il layout. Vi conviene andare col pulsante sinistro, cliccare tenere premuto, trascinare qua sotto, però attenzione, non vogliamo fare uno spostamento ma una copia, quindi ora premo il tasto CTRL. Vedete che appare il simbolino del più. Adesso sistemiamo le cose, però abbiamo già in modo coerente il grassetto, eccetera, eccetera. Basta specificare qual è la risorsa stringa da utilizzare per la password, quindi non etichetta user ma etichetta password e la stessa cosa qua per il hint, non quello per lo user ma quello che mi sono preparato appunto per la password. Voilà. Un altro beneficio del coppia e incolla è che ci siamo portati per così dire dietro anche il margine top che ha distanziato la coppia nome utente casella da quella password e la sua casella. Manca un particolare, questo è un campo test fill normale, noi lo vogliamo invece tipo password, quindi selezionamolo e andiamo a cambiare qua nelle proprietà l'input type password. Eccolo, text password, non visible altrimenti si vedrebbero i caratteri invece degli asterischi. Ok. E il bottone accedi. Button. Ho definito per il bottone la sua risorsa per il testo, etichetta accedi, poi nella gravity ho messo center, in modo che sia centrato rispetto all'area dell'attivity. Dai, togliamoci la soddisfazione di far partire la app, run as android application. Mi raccomando date all'emulatore il tempo necessario perché dovrà rifare l'upload, per cui in partenza potreste vedere ancora la schermata vecchia, ma dopo un po' dovremmo arrivare a questo punto. Ovviamente il bottone è ancora inerte, però funzionante. Conviene fermarci qui, prima di avventurarci, in una parte che è abbastanza delicata, e cioè la programmazione del click, e cioè la scrittura del codice che vogliamo far eseguire al click sul bottone accedi. A risentirci.